Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nostro video Oggi voglio incominciare una vanilla Aspettate Insieme a voi Il mondo l'ho già creato, non ho fatto niente Perché sono bravo E si chiama la LiuCraft Entriamo Sto volendo dal freddo Fino all'altro ieri si moriva da caldo Adesso ci mori di freddo Sono andata un attimo in giro quindi probabilmente avrò fame Perché ho guardato un attimo soltanto come era il mondo Oh no Ah si, l'ho guardata e mi sono suicidato Non ho fatto niente Cioè vi posso pure far vedere l'inventario Niente di niente Allora Comunque Se non credete Se questo è proprio È proprio solo spawn Ve lo faccio vedere Sto morti non vale ovviamente Ah beh ero qua Ah beh ero là Beh comunque ero sempre in questa zona qua Mi sono spostato Perché ho fatto così mi sono buttato giù Allora stavo in Milano L'ho voluta fare Ok Perché Comunque vi piace la mia skin Ditemi se vi piace la mia skin Aspettate un attimo Sistemazione cam Che Ho paura che poi si veda La marca della tv Madonna Ieri ho fatto un video che probabilmente uscirà Non so tra quanto Di Milano a Roma E' apparsa una pubblicità Mi sono lanciato alla tv a bloccarla Meh Ho tirato un urlo con la pubblicità Vabbè intanto che vi spiego un po' Vi Iniziamo a prendere la legna L'ho voluta fare Soltanto perché vedo tanti youtuber Che la fanno le vanille Chiedendo consigli ai propri fan Quindi Ah che male qua Quindi lo volevo fare insieme a voi E E intanto vedete come sono rincoglioni Ho finito su minecraft Giuro Giuro Che porterò al secondo episodio Del leak Sono andato avanti tantissimo E' quasi completa Sono andato avanti un sacco off camera Ovviamente Però Se vedete che c'è una macchia Qua nello schermo Perché sono un coglione Che ci ho lanciato Una Largi Largilla Che cacchio dico Ma si chiama maialino Adesso tu mori Lo sai vero Maialino 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 Sei stato fortunato maialino Appena ci riuscirò Ti ammazzerò Io ho scoperto da tipo Tre settimane Che si possono fare critici Anche con Con i pugni Guardate Ucciso E abbiamo anche Il grido del grano Così poi siamo sminiti Lo andiamo ad ammazzare dopo Perché sennò Che male Tbilisi Allora A caso Tre Due Bello Fantastico direi Eccettiva E Come si dice Beh direi fantastico Mi sono fatto due asce Non ci credo Se avete sentito Quella parolaccia Che bello Proprio fantastico Quello che io volevo Che si sentisse Nel video Madonna Dovrebbe Lui Dovrebbe darmi Una mano Con gli editing Che non ha voglia Se avete sentito La parolaccia Mio fratello Mi dovrebbe dare Una mano Con gli editing Gli ho chiesto Divo un bordello Di volte Soltanto che non c'è Mai voglia E quindi Se vedete le cose Che blocco Magari Perché non c'è lui Che può editare E io faccio Cacate Sennò sarebbe Tutto censurato Le parolacce E ogni volta Che gioca Minecraft Devo prendere Della Cobblestone Faccio il conto Per La spada Che sono due L'ascia Che sono tre Il piccone Che sono tre Più la fornace Quindi sono nove Più tre Undici Non so fare i calcoli Undici Quattordici Diciassette E Dovremmo farci Spada Ascia Piccone Sedici Così adesso lo so Che possiamo anche Farci la pala Con diciassette Ci facciamo anche pala Un consiglio Che vi do E non buttare mai Gli utensili In Legna Se lo fate Perché sono molto utili Io non sono davanti Alla telecamera Cioè Sono davanti alla telecamera Quindi vedo pochissimo Lo schermo Ho paura Che si veda la marca Che sempre Tutto buio Che sempre Giro Involta Non possiamo mangiare Poi Ma È so facile Perché è facile Normale Ragazzi sono Umbriaco Guginato Sì Allora Io voglio andare soltanto in miniera Perché ho visto Cioè Io scendo soltanto qua Perché ho visto Del carbone Che poi C'è gente che gioca In italiano Ma lo dice Li dice in inglese Tipo a me a volte Non mi viene da dire Carbone Quando gioco a minecraft O magari devo parlare di minecraft Con dei miei amici Ma mi viene da dire E l'altro giorno Ho preso Quattro stack di coal Mi viene da dire coal Perché è come se fosse Un po' un'abitudine Di parlare in inglese Tanto con le cose che so Perché se mi dite Di fare una frase Con coal Io non me la so fare E quello è il problema Così abbiamo anche il coal No adesso Me la smetto dai Così abbiamo anche il carbone Per il carbone Il carbune Bune Sapete mi sentite Il carbone Non so dove vi vedo Ditemi se carbone È tipo una parola È ferro quello Quello là è ferro Sì È ferro Raga Eccomi qua Allora un minuto Ok A volte ci saranno delle pause Tra Un coso altro Perché mi si è appena spenta la telecamera Sto telecamera Maledetto E ragazzi Questa qui sarà l'ultima cosa Perché c'è la telecamera Scarica Ecco perché si spegne Vabbè Prendiamo tutto il ferro Saliamo in superficie E finisce la prima puntata Cosa vi posso dire Anche io vorrei continuare Però Cerco di prendere altro carbone Magari intanto continuo off camera Non tanto come Ikea Che è quasi finita praticamente Però Magari cerco altro ferro Io vi chiedo Perché fanno così grande Le cose di carbone Ma poi appena trovi Trovi una cosa di diamante Ne trovi uno E poi ci metti tre ore Per trovarne un altro Io non so se ho l'occhi più ventoli Quindi Ciao ciao creeper È stato bello conoscerti Come Non creeper Come 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 Mangia 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 Con che fortuna Allora ragazzi Ciao Ci vediamo nella seconda puntata Sa che non sono dorate tantissimo Sto due puntate Sto prima puntata Metto la fotocamera in carica Oh sì La fotocamera in camera In camera In carica E poi appena carica Farò la seconda parte Tanto registrerò subito Tutto oggi Voglio almeno cercare Di farmi un lettino Possiamo farci un fantastico lettino Una ributta pecorella E boh Ciao Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Cerchiamo di arrivare a 40 iscritti O 50 iscritti Per questo video Voglio 10 like E Ciao